Brutto passo falso del Gela, che esce sconfitto per 3-1 dallo stadio Nicola De Simone di Siracusa per mano dei padroni di casa del Real. La squadra di Mirko Fauciana, dopo la vittoria della prima giornata, si perde nella trasferta siracusana. La squadra gelese parte forte impegnando più volte il portiere siracusano ma non riuscendo a trovare la via del gol. Il Real Siracusa cresce nel finale di primo tempo con il risultato che rimane a riete inviolate. Nel secondo tempo i padroni di casa escono dagli spogliatoi con un'altra carica che mettono sul campo. Prima passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da frittitta ma dopo pochi minuti il Gela riesce a pareggiarla con il gol del centrocambista ad agosto. La partita cambia con l'espulsione per rosso diretto al ventesimo della ripresa dello stesso d'agosto che lascia la squadra in dieci uomini. Da lì in poi il Real trova grossi varchi in attacco e riesce a trovare il gol del 2-1 con Tourette. Nei minuti finali il Gela prima rimane in 9 per l'espulsione di D'Amico e poi subisce il Tris con quarto. Eccellenza, girone B, i risultati della seconda giornata. Mister Bianco Santa Croce 1-1, Real Siracusa Gela 3-1, Rocca Acque Dolcese Modica 1-3, Enna Mazzarrone 2-0, Ionica Leonzio 0-1, Leonfortese Imeni Atletico Catania 1-1, Milazzo Messana 0-0, Paternò Nebros 1-1. La classifica. Modica, Real Siracusa ed Enna 6 punti, Mister Bianco e Nebros 4, Gela, Leonzio e Mazzarrone 3, Imesi Atletico Catania 2, Leonfortese, Santa Croce, Messana, Milazzo, Rocca Acqua Dolcese e Paternò 1 punto chiude la Ionica a 0 punti.